Dove sarà, dove sarà, na 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 Buongiorno amici dello zoccolo duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno Volete che mi avvicino al microfono così si sente meglio? Ditemi se si sente bene 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova Parole figa collegate al telefono, scemoniti E collegate al computer, che tra l'altro non si sa se va o non va Poi domani lo vedremo Detto questo, domani live Domani live, cambiamo orario Live di solito i rossoneri, io, Brogna, Total Fred Adesso vediamo il quarto, stiamo facendo un paio di inviti Vediamo chi viene, perché Steve non c'è Però cambieremo ufficialmente l'orario 7.15, 8.15, quasi sicuramente sarà così Domani vi do conferma Detto questo, parliamo di Milan Adesso oggi tutti parlano Oggi, tra tre giorni Tutti parlano Quanto conta il Milan nelle sedi? Come sai, tutti l'hanno scoperto oggi, no? E ha scoperto oggi che non contiamo niente Oggi l'abbiamo scoperto? Sono 15 anni che così C'è gente che si è svegliata stamattina Oh, ma il Milan conta qualcosa? 15 anni che così Ma non è che noi non contiamo niente Perché non abbiamo il potere O non abbiamo chissà cosa Non c'è proprio l'interesse Cioè, non c'è nessun interesse a contare qualcosa Cioè, forse non è chiaro Non c'è nessun interesse A essere influenti nel caso Cioè, va bene Quello che decidono va bene Cioè, facciamo insomma Fatturiamo Cioè, al nostro proprietario Della Serie A Interessa Interessa Ma interessa che cresca tutta la Serie A Interessa che ci sia più fatturato Più diritti televisivi Non gli interessa minimamente la parte sportiva Quindi, nel momento in cui Si vanno a prendere delle decisioni Non sportive Allora il Milan Si fa sentire, no? Allora il Milan conta Allora il Milan Qualcosa ha da dire E lo può dire Ok? Anche perché comunque Jerry Ucar Camagno Lo sciacallo Delle stelle strisce Non è l'ultimo arrivato Non è l'ultimo arrivato Cioè, è uno conosciuto nel mondo No? Di conseguenza Quando parla di qualcosa Che gli interessa Ha un suo potere Ha un suo valore Comunque Quindi Non è che il Milan Non conta nulla In generale Conta Quando c'è da prendere Delle decisioni Che interessano La proprietà Nel momento in cui Si parla di roba sportiva Si gioca Non si gioca I tre punti Non gli interessa Non gli interessa Non gli interessa minimamente Non gli interessa Detto questo In un paese normale In un paese normale Dove un sindaco Può tranquillamente Decidere Se si gioca O non si gioca Una partita Ci dovrebbe essere qualcuno Che lo mette a posto No? O che sistema le cose Ieri ho dato un'idea Poi ognuno Può pensare All'idea che vuole Altra cosa Che mi fa molto ridere Ah Campionato falsato Eh sì eh Adesso Il campionato È falsato Ma di che campionato Parliamo? Ma noi non siamo In competizione Cioè Campionato falsato Come se noi Adesso Con la partita Con il Napoli Perché ci arriviamo A meno 8 Invece che a meno Ma noi non Competiamo con loro Cioè Noi non siamo In competizione Con Inter Napoli E Juventus Cioè Forse non è chiaro Stasera c'è la partita Inter-Juve Che giocheranno E poi Chi delle due vince Dubito che l'Inter Possa perdere Perché Però Sai Rubare in casa Della Juve Diventa difficile Quindi cioè Ci proveranno Ma Non è così semplice La guerra tra loro Prova brutta Derby d'Italia Derby di chi? Poi anche sta roba Scusate Lo devo dire Allora È da tanto Che non faccio frecciatine All'Inter Giusto? Perché Fondamentalmente Cosa devo fare Le frecciatine Facciamo ridere noi Quindi me la prendo Più con i nostri Che con loro E non faccio frecciatine All'Inter Però Tutto questo clamore Inter-Juventus Derby d'Italia Cioè Da quando sono Piccolo io E C'ho 42 anni Quindi non è che Sono proprio Un ragazzino Cioè da quando Sono piccolo io Non c'è Non c'è mai stata Nessuna rivalità Inter-Juve Aspetta Non intendo Dire che C'è C'è la rivalità Nella tifoseria Ok Ma sul campo La Juve vinceva E l'Inter Trovava le scuse Perché Sempre così E sta Cioè non c'è mai stata Una rivalità Sai Una volta vince la Juve Cioè noi con la Juve Avevamo la rivalità Che vincevamo noi Vincevano loro Poi noi vincevamo la Champions Poi loro vincevano il Campion Ma l'Inter Questa rivalità Non c'era Cioè vinceva la Juve E l'Inter diceva Che loro rubavano Cioè questa è stata Sempre la storia Da quando io sono nato E cresciuto Poi L'Inter Tramite il processo È riuscita a rubare Più della Juve Quindi La Juve non c'era La Juve l'hanno mandata In Serie B Cioè per poter vincere L'Inter Ha mandato la Juve In Serie B Se no non avrebbe vinto mai Oltre penalizzare Tutti ha penalizzato È rimasta da solo Con la Roma Si giocavano il campionato Pensate con la Roma Si giocavano il campionato E hanno vinto Cinque anni così Dove la Juve non c'era Noi anche Eravamo mezzo disastrati Nonostante Avessimo vinto comunque Anche la Champions Perché guardano lì Quindi questa rivalità Inter-Juve Non c'è mai stata Perché prima Ha sempre vinto la Juve E l'Inter perdeva E diceva che loro rubavano Poi C'è stato Calciopoli La Juve non c'era Per cinque anni Quando è tornata Ha ricontinuato A vincere la Juve Per nove anni di fila Nove anni di fila E quindi Non c'era nessuna rivalità Perché la Juve vinceva E l'Inter diceva che rubavano E poi Adesso negli ultimi anni Che l'Inter ha vinto Uno scudetto A due Due l'ha vinto forse Due scudetti La Juve non era in competizione Per lo scudetto Perché erano mezzi 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 Messi male Non erano in competizione Per lo scudetto Quindi questa rivalità Inter-Juve Forse quest'anno Se la giocano Ma c'è sempre Napoli Quindi vedremo Se poi sarà Una vera rivalità Inter-Juve Che non mi ri subito Detto questo E tornando a noi Scusate ma sta roba Gliela dovevo dire Perché Ogni tanto Ogni tanto Qualche frecciatina Gliela devo mandare Oh è troppo Che ne facciamo cagare Facciamo ridere Però ogni tanto Serve Tornando a noi Tornando a noi Basta parlare di campionati Falsa Noi non siamo in competizione Con loro Purtroppo Purtroppo Non lo dico con piacere Purtroppo è così Tanto ho sentito Che Camarda In squadra Non lo so Ovviamente Conta solo la prima squadra Il resto non è mai contato niente Vi ho sempre detto Tutta il calcio femminile Roba Roba di marketing Roba di marketing Per me conta solo Il Milan Serie A E basta Finché siamo in Serie A Prima squadra Diciamo prima squadra Vedremo cosa succederà Ragazzi Dai ci sentiamo stasera Posti interview Un video dovrò farlo per forza Per vedere cosa è successo E' uscito il video Sul canale nuovo Oggi si parla di gelosia Non tra interisti e milanisti Gelosia in generale Delle coppie E noi Ci sentiamo stasera Va bene Vado a mangiarmi Sto pandoro di bufala Che mi sono ordinato Dal caseificio Levante Devo mangiarlo Il giorno stesso Il giorno stesso Poi dopo Quei giorni E la mozzarella Bisogna mangiarla subito Così